Musica Sì, un minuto è già tanto. È già tanto. Allora dimmi, come vanno per ora queste giornate? Molto bene, è una partecipazione straordinaria, entusinasta, moltissime persone da altri giovani che discutono e che sentono insieme l'urgenza di ricostruire una forza che cambia le cose. Ma non è un po' lunga arrivare a dicembre? No, non è lunga. Perché c'è un sacco di battaglie? Non è lunga perché le battaglie sono il terreno che si costruisce, non forzano più forte, invece di farne il laboratorio. Quindi proviamo a evitare che invece di concentrarci sulle battaglie, a cominciare dai referendum, con l'istituzionale, con le settimane, ci si concentri sui congressi. Mi pare meglio fare le battaglie, poi fatte le battaglie, speriamo anche vinte, facciamo... Si costruisce i regionali o no? Si, costruisce i paesi inglesi, i primi coordinamenti, i primi punti di riferimento, i territori sono fondamentali, diamo il tempo nel territorio di organizzarsi, anche in modo un po' libero, senza troppe norme, con elementi chiari, ma anche dando ai territori un'elasticità che è giusto che abbia. Che è giusto che abbia. Quindi comincia la sinistra italiana per ora? Comincia e non si torna di via. Ok, ti ringrazio, ciao.